Professionalità e cortesia? Tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Ci trovi in via 25 luglio 67 a Cava dei Tirreni. Si avvicinano a Cava dei Tirreni i giorni dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine dell'Ulmo e come già accaduto nel recente passato, il programma civile si apre al sostegno e dal contributo dei privati, anche in considerazione delle difficoltà economiche del comune metelliano. L'amministrazione comunale, attraverso il coordinamento del delegato alla cultura Armando Lamberti, intende infatti promuovere ed organizzare una serie di manifestazioni in occasione dei solenni festeggiamenti civili in onore della patrona di Cava dei Tirreni. In quest'ottica, da Palazzo di Città, si auspica la collaborazione di cittadini, fondazioni, associazioni, comitati, professionisti, operatori commerciali e imprenditoriali, istituti di credito, attraverso l'Istituto della Sponsorizzazione Tecnica. Nello specifico, la richiesta rivolta a tutti coloro che intendono formulare e sostenere direttamente delle proposte, relative all'illuminazione del Sagrato e dell'ingresso della Basilica Pontificia, a manifestazioni artistiche, culturali e ad attività di servizi, è quella di farle pervenire entro le ore 24 del 23 agosto, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web del Comune di Cava dei Tirreni, all'Ufficio Cultura dell'ente, o a inviarle all'indirizzo di posta elettronica amministrazione-chiocciolapec.comune.cavadetirreni.sa.it oppure daniela.calabrese-chiocciolacomune.cavadetirreni.sa.it Nei giorni scorsi è stato intanto pubblicato il bando per rassegnazione dei posteggi, nel periodo compreso tra il 7 e il 12 settembre, delle bancarelle.